E io reggo perché sono appena tornato stonato dall'Olocride, sono stato tre giorni con i miei ragazzi nella Locride, a Locride, capito? Ah, com'è andata Don Marzio? Ho fatto il mio Sanremo lì, in un'altra maniera, ma devo dirti che sono stati, è stato un incontro molto bello Sono un po' stanco, sono un po' stanco ma la mia frase, eccola Per essere felici bisogna godere di ciò che si è Più che di ciò che si ha, per essere felici bisogna godere di ciò che si è E io sono felice per quello che sono E anche voi, ciao, ciao, ciao Ciao, sì, anche noi, dai Numero uno, ragazzi È meraviglioso Non sempre Già di lunedì, già di lunedì